Ciao a tutti, sono Lucia Rosolen, consulente mappo, esperta in ordine, organizzazione, gestione del tempo ed economica. Mi sono formata alla scuola di Alba Romito, consulente numero uno in Italia e in Europa per il riordino e non solo. Dopo aver conosciuto Alba e aver seguito con successo i suoi corsi, ho deciso di diventare consulente mappo perché questo percorso mi ha trasformata, mi ha trasformata davvero e mi ha fatto crescere il desiderio di condividere con voi l'arte del migliorarsi facendo. Sono sempre stata una persona alla ricerca e alla difesa della sua libertà, ma libertà non è fare quello che si vuole, bensì essere se stessi. E per fare questo ci vuole ordine, chiarezza e regole. Un metodo aiuta a trovare chi sei, a ritrovarsi e fare è il metodo principale. Anni di riflessioni e corsi teorici, ma il fare, l'agire dei sistemi che propone Alba Romito e che io ripropongo a voi, aiuta davvero a ritrovarsi, a crescere facendo ordine spazio temporale. Ordiniamo e trasformiamo le nostre vite.